Sabato 18 di maggio, buongiorno a tutti, bentrovati al nostro primo appuntamento con l'informazione su Telepace con il nostro Tg Rassegna Stampa, andremo a leggere i giornali in edicola questa mattina, ma come di consiglio apriamo subito le finestre sul nostro territorio, andiamo a vedere la giornata di oggi come si sta caratterizzando dal punto di vista meteo e anche le previsioni per il fine settimana e diciamo che quella di oggi è una giornata ancora con cielo sereno, qualche velatura sulla costa e nell'interno, ma almeno sia per oggi che per la giornata di domani ancora sarà un tempo sereno senza precipitazioni se non qualche sporadico episodio nell'entroterra possibile, questo è appunto la costa e invece l'entroterra alle spalle del golfo del Tiguglio, qui stiamo a Vidonetta, a San Coromano e a Certennoli, il sole sta salendo sul cielo del Tiguglio per una giornata caratterizzata da azzurro e sereno, sia il mare che il cielo. Temperature che sono comunque in media con il periodo stagionale, siamo intorno ai 17-18 gradi lungo la costa, un po' più freschino nell'entroterra sui 13 gradi che si trovano a Favale di Malvaro, 11 gradi a Rovegno e siamo sui 7 gradi a Rezzoaglio, nella piana di Rezzoaglio in Val Daveto, 7.8 anche a Rocca Daveto, quindi temperature comunque primaverili, non troppo basse, almeno anche per quanto riguarda l'entroterra. Uno sguardo dunque alle previsioni per le prossime ore, iniziamo dalla giornata di oggi, intanto la situazione vede la presenza di un campo di alta pressione, sarà un fine settimana complessivamente variabile, con schiarite e basso rischio di fenomeni, è previsto però un nuovo peggioramento, lunedì con piogge su tutta la regione, andremo a vedere meglio nel dettaglio, questa è la grafica per quanto riguarda le prossime ore, sia per la mattina di oggi che per il pomeriggio. Sarà una mattinata nel complesso soleggiata, a parte qualche nube sparsa sul settore centro-occidentale della regione, nel pomeriggio formazioni di nubi cumuliformi nelle zone interne, non si esclude qualche rovescio, prima di sera su Alpi Liguri e sulle testate di Valtrebbia e Aveto, lungo la costa il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso. Venti deboli da nord al mattino, meridionali sempre deboli nel pomeriggio, mare da mosso a poco mosso con moto ondose in ulteriore calo, temperature stazionari e le minime, in aumento le massime. Questa la previsione per la giornata di oggi del centro meteo Ligure, uno sguardo alla giornata di domani, domenica 19 maggio, anche qui al mattino cielo sereno o velato su tutta la regione, nel pomeriggio velature possibili e formazioni di nubi cumuliformi nelle aree interne con qualche rovescio o breve temporale tra Valtrebbia, Aveto e Alpi, Liguri asciutto sul restante arco appenninico. Eventi da moderati adeboli settentrionali a Ponente, brezze dominanti a Levante, il mare poco mosso, temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi. Questa la previsione per domani, uno sguardo a lunedì 20 maggio, per lunedì è dunque previsto questo peggioramento che porterà piogge e precipitazioni su tutto l'arco della regione, piogge sparse e locali rovesci previsti per la giornata di lunedì. Ovviamente l'invito è di seguire i prossimi bollettini, il prossimo aggiornamento sulle previsioni, sempre pubblicato sul sito centrometeoligure.com per la giornata di lunedì e quella di martedì. Questa è la situazione meteo per quanto riguarda le previsioni per questo fine settimana e la giornata di lunedì. Prima di passare alla lettura dei giornali in edicola questa mattina, uno sguardo al Santo del Giorno, oggi il 18 maggio si venerà San Giovanni I Papa e Martire. San Felice da Cantalice, San Teric IX, San Venanzio di Camerino, i Santi Teodotto, Tecusa, Alessandra, Claudia, Faina, Eufrasia e Matron, gli altri Santi venerati oggi dalla Chiesa. Andiamo in edicola, andiamo a parire i giornali in edicola questa mattina e iniziamo da avvenire, che ci porta subito a Verona, perché proprio in queste ore si sta svolgendo la visita di Papa Francesco a Verona per una grande festa e l'incontro per appunto incontrare la comunità di Verona del Papa con tanti appuntamenti che si concluderanno poi con la messa dello stadio Bente Godi. Intanto appunto vediamo proprio in onda il Papa che sta parlando nel primo momento di questa mattina, ovvero che è l'incontro con i sacerdoti consacrati nella Basilica di San Zeno, seguirà poi l'incontro con i bambini e i ragazzi da Piazza San Pietro, il Papa sta già parlando, sta incontrando appunto la comunità dei religiosi, dei sacerdoti consacrati. Sentiamo qualche parola da parte del Pontefice proprio in diretta in questo momento. Vediamo la ricerca del consenso, anche cercando di fare carriera, e questo è bruttissimo, no? Invece di spendere la vita per il Vangelo e per un servizio gratuito alla Chiesa. E' Lui che ha scelto noi, è Lui, Lui al centro. Se ricordiamo questo, che Lui mi ha scelto, anche quando avvertiamo il peso della stanchezza e di qualche delusione, rimaniamo sereni, fiduciosi, certi che Lui non ci lascerà a mani vuote. Ecco, dunque, queste le parole del Papa, che il suo incontro con i religiosi consacrati a Verona, tanti momenti della giornata di oggi, avremo modo di seguirli anche nel corso dei nostri appuntamenti informativi. E a Verona si sta parlando di pace, come ci ricorda a venire con la prima pagina in Dicola questa mattina, da ieri a Verona al confronto sulle vie possibili di riconciliazione a tutti i livelli. E oggi il manifesto sarà presentato al Papa, la pace di tutti i giorni, questo è il titolo di avvenire. E in occasione dell'Arena di pace, Edith Brook, la poetessa, ha elaborato e scritto un pensiero e una poesia. Uccidere è un po' morire, fermatevi, la vita è preziosa per ognuno, ovunque sia, di qualsiasi fede e colore. La pace non sia solo una parola ma sostanza, volontà, rispetto per ogni essere umano. Alimentate quel bene che c'è in voi e lasciate morire di fame il male. Non cedete alla disumanizzazione, da nessun potere è possibile. Io lo so, la pace è non odiare, dialogare. Ascoltate le vostre coscienze, non le parole del dittatore di turno. E poi la poesia che la poetessa consegna al giornale. E poi i diversi temi, le esperienze condivise, artigiani del dialogo, impegno nel concreto, l'ambiente, la salute e il lavoro. E qui che operano gli artigiani della pace, le loro storie, le loro vite, protagoniste ieri al primo giorno dell'Arena. Il Papa lo ripete spesso di essere artigiani di pace. La Nobel, Finn, odio, armi e guerra è la logica maschile. Le soluzioni in cui tutti si vince esistono. C'è un maschile legato alla forza e c'è un femminile per l'egualitarismo, dice Beatrice Finn, Nobel per la pace nel 2017. E a parlare anche il Vescovo Pompili. E qui quella fiducia che dà le vertigini, ogni visita contiene in sé una promessa. La visita di Francesco non fa eccezione, è un'occasione irripetibile per raccogliere testimonianza e impegno. E sono le prime pagine del quotidiano dedicate proprio a questo evento a Verona. Intanto sul scenario internazionale, il vertice tra Putin e Xi, si è parlato anche della proposta francese, ovvero Putin per la tregua olimpica. E non vogliamo Kharkiv, la Cina dice conferenza dopo Lucerna, la pausa per i giochi proposta dal presidente francese Emmanuel Macron è stata uno degli argomenti del summit con Xi Jinping di Vladimir Putin che giovedì è volato a Mosca. Secondo quanto sia preso ieri per lo zar, si tratta di una buona idea che deve essere promossa dai dirigenti sportivi, mentre l'ipotesi lascia perplesso Zelensky. Intanto Putin annuncia che non interessa la conquista di Kharkiv ma una fascia di sicurezza. E poi Medio Oriente, l'Italia e altri 12 paesi no all'attacco a Raffa, la situazione appunto in terra santa. E l'appello delle imprese, l'industria e il G7 agire insieme, questo l'appello in vista del prossimo G7 a cui in un momento, lo ricordiamo, parteciperà anche Papa Francesco per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale. Questi i temi che troviamo su Avvenire, le pagine di Avvenire, e dicevamo nelle pagine interne l'incontro di Verona al popolo dell'Arena con Francesco. La pace si fa giorno per giorno, questo viene riportato appunto all'interno delle pagine di Avvenire. Il programma vede una mattinata carica di attese e speranze, quella che si vivrà oggi all'Arena di Verona nella giornata conclusiva della manifestazione Arena per la Pace. Alle 10 nell'Anfiteatro Scaligero entrerà Papa Francesco per quasi tre ore di dialogo e di confronto con i delegati e i rappresentanti delle oltre 200 realtà associative. Il programma vede la presentazione del processo dei tavoli tematici con intervento di testimonial e di artisti diversi, quelli che hanno dato la propria adesione e si esibiranno nel corso della mattinata, cuore dell'evento sarà comunque il momento delle domande e soprattutto delle risposte del Papa ai temi affrontati con la consegna del manifesto Arena 2024 che sarà letto come atto conclusivo della intensa mattinata. Nella parte relativa alle prospettive sarà presentata anche la campagna Don di Pace promossa e realizzata da Avvenire. E lo ricordiamo, tutti questi eventi saranno seguiti da Telepace in diretta, in questo momento su Telepace 1 c'è appunto l'incontro del Papa con i religiosi della città di Verona. Passiamo adesso al secolo XIX, cambiamo quotidiano, i temi di apertura sono decisamente diversi, ci riportano in Liguria l'inchiesta sul voto di scambio sulla corruzione per quanto riguarda la regione e il porto e la procura gela Toti, decidiamo noi quando ascoltarlo. Interrogatori legali contestano il contenuto delle trascrizioni di Spinelli Junior, non ha detto che i finanziamenti erano illeciti. Porto arrivano intanto gli ispettori, il membro del comitato portuale Carozzi davanti al PM, per 5 ore il sindaco Bucci chiede di essere sentito, dopo Toti anche Marco Bucci, non innagato, ha chiesto di essere ascoltato dai PM, ma sarà la procura a stabilire tempi e modi dell'interrogatorio del Presidente della regione. Ieri intanto per 5 ore i PM hanno ascoltato il membro del comitato portuale Giorgio Carozzi, diventa un giallo l'interrogatorio di Roberto Spinelli, nella trascrizione si legge Toti chiedeva finanziamenti illeciti, mentre i legali sostengono che abbia detto leciti. Sì, quindi c'è anche un dibattere in merito ai temi delle deposizioni che si stanno raccogliendo in questi giorni. Parla il Ministro Zangrillo, chiarezza in Liguria o si ferma allo sviluppo? Fare chiarezza più presto e ripristinare la continuità per la Liguria? L'auspicio che il Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo non bisogna interrompere i piani di sviluppo di questa regione. E sono altri temi che sono affrontati poi negli occhielli del giornale, in prima pagina. Di spalla lo sport, Sampdoria sconfitta, stop al sogno Serie A, la delusione di Esposito mentre i giocatori del Palermo esultano, il Palermo vince 2-0 la gara dei play-off per continuare la ricerca della Serie A, i blu cercati mai in partita, Pirlo diceci, riproveremo l'allenatore che appunto ha messo in campo la squadra. Altri temi a centro pagina, fu voto di scambio 8 mesi a Mondello, ex sindaca di Lavagna, c'è la sentenza definitiva per un processo che è stato rifatto, tema che troviamo nelle pagine del Levante, appunto le inchieste per voto di scambio che avevano portato anche il commissariamento del comune di Lavagna nel 2016, l'ex sindaco e le elezioni mafiose aiutarono la cupola in riviera, le reazioni in città alla sentenza di condanna della parlamentare Gabriella Mondello nel 2016 l'inchiesta ai conti di Lavagna portò allo scioglimento del Consiglio Comunale. E altro tema giudiziario, questa volta legato agli ultimi sviluppi delle inchieste su Genova che coinvolgono anche il Consigliere regionale Cianci, lente sui lavori nei palazzi, la finanza setaccia i documenti sui PC, inchiesta per voto di scambio, il Consigliere regionale indagato ha consegnato volontariamente un dossier con le pratiche avviate, vertici degli amministratori condominali all'ordine del giorno la sospensione, il Presidente D'Angelo dice finora non ci sono elementi, abbiamo pensato sia meglio lasciare la decisione all'organo dei provviviri di Roma e appunto si sta cercando di capire come muoversi anche per quanto riguarda gli addetti ai lavori. Un altro tema che ci riporta sempre a Rapallo, legato al Rapallo, alla rimozione degli yacht distrutti dalla mareggiata del 2018, gli yacht del Riva erano stati portati in Toscana, il prossimo 4 giugno è processo d'appello ma a fine mese termina la proroga per i relitti e il loro smaltimento. Prosegue lo smaltimento dei relitti del porto di Rapallo accatastati in una zona abusiva di via Zaccagna a Carrara, a ridosso della marina di Carrara i lavori devono essere finiti come ha sancito il Comune di Carrara entro il 31 maggio prossimo. Il 4 giugno invece al Tribunale di Genova ci sarà la lettura della sentenza d'appello sullo smaltimento e l'eticito degli yacht distrutti a Rapallo. Il sito di Carrara che nei documenti di smaltimento subito dopo la mareggiata non era segnalato, era stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure che stava indagando su un carico di detriti del porto sequestrati a bordo di un camion, inchiesta che ha portato a questi sviluppi. Andiamo nelle altre pagine del giornale, in edicola questa mattina si fa il punto sul amministrative, verso le amministrative sono 19 i comuni del nostro comprensorio che sono chiamati ad eleggere il sindaco, qui siamo a Neirone nel paese della Fontana Buona in corsa, lo storico sindaco Stefano Sudermania e una outsider Rita Stasi, candidata per il progetto Neirone. Neirone tra frane e spopolamento, idee per salvare l'entroterra, questi i temi che accomuna i due candidati, vorrei costituire una comunità energetica per far risparmiare la popolazione, questo è uno dei punti della candidata Rita Stasi, mentre il sindaco uscente Sudermania, strade e trasporti le priorità assolute e se è possibile ristruttureremo il ponte di Dante e questi i temi dei due candidati a sindaco per quanto riguarda il comune di Neirone, siamo in Val Fontana Buona. Vedo pronta dalla redazione Cristina Oneto per gli aggiornamenti, per altri aggiornamenti andiamo subito la linea alla redazione. Grazie, grazie Andrea, abbiamo un aggiornamento di cronaca, rimaniamo in Val Fontana Buona, una disavventura fortunatamente a lieto fine che ha avuto per protagonisti due senza fissa di inumora che stavano trascorrendo la notte a bordo del proprio automezzo. Le cause per cui il mezzo si è messo in moto non sono ancora certe, potrebbe essere una disattenzione, magari non aver messo il freno a mano. Insomma che durante il sonno questa coppia che appunto stava dormendo all'interno della propria auto all'Orsica è finita, ha compiuto un percorso di 50 metri ed è finita nel torrente Malvaro in mezzo appunto all'acqua del torrente. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4 di questa notte che sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo e a destrare tutti coloro che si trovavano a bordo dell'autovettura. Un uomo e una donna di circa 55 anni, un cane mare in mano e due tartarughe. Tutti quanti fortunatamente illesi. L'intervento è durato circa tre ore per consentire le operazioni di recupero e come dicevamo la disavventura è finita a lieto fine perché non è stato nemmeno necessario il trasporto al pronto soccorso proprio perché entrambi gli occupanti in mezzo si trovavano in buone condizioni di salute. Dalla redazione al momento non ci sono altri aggiornamenti. Linea allo studio. Grazie, grazie Cristina. Noi restiamo a parlare di territorio, eravamo in Val Fontana Buona ma ampliamo lo sguardo a tutto il comprensorio del Tiguglio per capire come questo viene visto dai giovani. Questo infatti è stato il fulcro di una ricerca statistica portata avanti dalla società economica di Chiavari in collaborazione con l'Università di Genova che ha proprio chiesto ai giovani l'età compresa tra i 18 e i 24 anni di esprimersi in merito al territorio, le loro aspettative e anche le difficoltà riscontrate da questa fascia di età. Ieri c'è stata la presentazione al pubblico dei risultati di questa ricerca. Andiamo a vedere insieme. Un posto dove si vive bene, la qualità di vita è alta, ma che poco offre dal punto di vista della crescita economica e professionale e che per questo motivo dovrà essere molto probabilmente abbandonato per andare a trovare lavoro altrove. Questa è la percezione che i giovani hanno del Tiguglio e del proprio futuro. Quasi 400 i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 24 anni che hanno risposto al questionario che la società economica di Chiavari ha proposto contando principalmente sulla collaborazione delle scuole ma anche attraverso i canali social. 313 quelli che alla fine, dopo una fisiologica scrematura, sono andati a comporre il campione sulla base del quale è emersa una fotografia di un territorio bello ma limitante. Una percezione molto positiva di ambiti come la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e la coesione sociale. Viene percepita in maniera un po' meno positiva tutto ciò che riguarda lo sviluppo economico e le previsioni di crescita economiche della zona e questo forse è una cosa su cui il governo di questa zona deve un po' lavorarci. I risultati della ricerca, coordinati dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con l'Università di Genova e il Consorzio IANUA, sono stati presentati nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti delle istituzioni locali. A loro adesso il compito di trovare risposte alle domande emerse dall'elaborazione dei questionari, magari anche contando sulle risorse messe a disposizione dell'Unione Europea per sostenere progetti che affrontino queste tematiche. Definire come applicare questi criteri dell'EU per dare i finanziamenti agevolati a chi è in grado di muoversi per realizzare questi obiettivi, questo sarebbe il top. Siamo contenti perché questo è il primo fotogramma ma speriamo che sia poi la possibilità di estenderlo negli anni successivi a tutta la popolazione con speriamo ulteriori risultati. Intanto oggi sentiamo cosa dicono i ragazzi. Sarà anche un modo per cercare di rispondere a queste richieste che i giovani comunque fanno? Non a caso oggi abbiamo invitato tutte le autorità politiche ed economiche perché poi saranno loro dove rispondere soprattutto. La strada economica come sempre butta il sasso nello stagno e poi guarda come si sviluppano le onde. Dunque questa è la fotografia scattata da questa ricerca che ha visto in protagonisti i giovani, gli studenti del territorio. Noi andiamo avanti con la cronaca leggendo le pagine del secolo XIX in edicola qui stamattina. Ci riportano a Seste Levante, arriva Trigoso, operai aggrediti alla Fincantieri, sono cinque i colleghi denunciati, il pestaggio risale lo scorso 12 marzo, si sono portate avanti le indagini, si tratta di manovali di una società di Udine, accertamenti sul movente e si indaga su una rissa a recco che sembrerebbe essere collegata con l'episodio appunto di Riva Trigoso. Sono cinque gli operai denunciati per il pestaggio avvenuto lo scorso marzo all'interno dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. Sono stati i carabinieri della compagnia di Seste Levante a chiudere le indagini a due mesi dai fatti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lite avrebbe contrapposto operai della stessa ditta e tutti appartenenti alla comunità bengalese. Ancora la cronaca, auto contro un platano in centro lavagna, due ferite, una è grave, è successo nella notte tra giovedì e venerdì, due giovani sono stati ricoverati all'ospedale San Martino di Genova e si sta cercando di capire come sia andata la dinamica dell'incidente. E poi per sessuina tre carcasse ritrovate a uscio, il totale dei casi sale a 11, le rilevazioni dell'istituto di Zopro Filassi Piemonte e Liguria, una peste suina che si sta allargando anche nel nostro territorio. Altre pagine a chiave, rimanifesti affissi in ritardo, il comune non c'entra, la campagna del comitato antidevoratore con i volti dei politici, l'azienda dei tabelloni pubblici spiega la presunta censura, errore di un dipendente, un'interpretazione personale e inappropriata di un dipendente. Così ICA, la società che ha in concessione il servizio di affissioni a chiave, rispiega al caso che secondo il comitato contrario al depuratore incolmata si profilava come tentativo di una violazione grave del principio di libertà di espressione che è tutelato dalla nostra Costituzione. Così prosegue il comitato presieduto da Andrea Sanguinetti pur ritenendo incolpevoli gli impiegati, pensiamo vada fatta chiarezza su questo sistema di relazioni e di controlli potenzialmente limitanti la libera espressione da parte di chi gestisce il potere in città. La vicenda è quella del manifesto fatto redigere dal comitato stesso e affisso giovedì in 20 coppie lungo le vie di Chiaveri e che mostra le foto del sindaco e di tutti i membri della giunta e della maggioranza per richiamarli personalmente alla colpa di non affermare il progetto del depuratore. Era stato portato all'ufficio competente il 9 maggio, la mattina stessa il comitato veniva informato per i mail da ICA che in quanto vige il silenzio elettorale è stato chiesto un parere autorizzativo al capo area per capire se i manifesti possano essere affissi o meno. Gli episodi anomali che intervengono dopo sono sostanzialmente due. Il primo, un esponente dell'amministrazione comunale invia un messaggio irridente a un membro del comitato inoltrando la foto del manifesto che non era stato ancora diffuso. Il secondo, la comunicazione giovedì mattina del nulla proposta alla pubblicazione per l'esplicita ammissione di ICA in seguito al benestare del comune, riferisce il comitato. Ovviamente nei membri dell'amministrazione e negli uffici comunali avrebbero alcun titolo ad autorizzare la fissione. L'amministrazione Messuti interviene con una lapidaria puntualizzazione. Il comune di Chiaveri non è intervenuto in alcun modo sulla questione della pubblicazione dei manifesti. No al depuratore. Cosa è successo allora? Il ritardo nella fissione è ascrivibile a un mero approfondimento reso necessario dal contenuto del manifesto stesso in ordine alla possibile violazione del silenzio pre-elettorale in vigenza dal 9 maggio, spiega il responsabile di zona di ICA, Riccardo Amato, secondo il quale però la verifica è stata tutta interna. Qualsiasi coinvolgimento del comune di Chiaveri è stato erroneamente desunto dal personale di ICA in loco, non sussistendo alcuna corrispondenza in tal senso fra gli uffici comunali e il concessionario. Insomma, chi ha comunicato nulla osta al comitato avrebbe dato una propria ed errata interpretazione dell'accaduto, allo stesso modo non è giustificata dalla società, se non come comportamento inadeguato di qualche dipendente, la divulgazione del manifesto prima della sua affissione. Questa dunque la questione legata a un manifesto pubblicato in questi giorni a Chiavari. E poi invece a Sestri Levante, cestini smart autocompattanti, così Sestri riduce le emissioni. Novità nella raccolta dei rifiuti anche al centro del riuso. Chiavari premiati da Amico e Malaguti, verificare per battere le fake news ai due giornalisti il Mimmo Angeli, alla terza edizione il premio, assieme alla conduttrice Gigi Buffon, ragazzi credetemi i vostri sogni, alcuni scatti appunto del momento di ieri con la premiazione dei due giornalisti e anche la presenza di Gigi Buffon all'economica, la richiesta di autografi da parte di qualche fan presente. Noi cambiamo argomento perché nella diocese di Chiavari sta per vivere un momento importante, ovvero l'ordinazione di nuovo presbitero, domani in Cattedrale Francesco Basso e in vista di questo appuntamento importante ma anche per vivere insieme un momento di comunità tra i presbiteri, tra i sacerdoti della diocesi si è svolta la giornata sacerdotale a Montallegro, presente il Vescovo diocesano e sono stati festeggiati anche i sacerdoti che hanno raggiunto traguardi importanti come 50 anni di ordinazione e più. È un momento che abbiamo seguito anche noi, sentiamo le parole del Vescovo e poi qualche commento appunto al traguardi raggiunti da alcuni sacerdoti. Pace e Relepecore annunciando la parola, celebrando i sacramenti e con la testimonianza di una vita abitata dalla tensione ad essere discepoli dell'unico maestro e soprattutto costruendo la fraternità fra i sacerdoti. È preciso l'invito di Monsignor Devasini alla giornata sacerdotale celebrata come da tradizione al Santuario Mariano di Montallegro, un invito a guardare con realismo all'esperienza della vita sacerdotale condivisa con fratelli che non si sono scelti fra loro. Dalla fede in Gesù scaturisce la fiducia negli altri, necessaria tanto quanto la conoscenza reciproca, non per i loro meriti, non per la loro perfezione, chiedendo loro solo di fidarsi. Noi siamo quei dodici. Il rischio da cui nessuno di noi è esente è che le incomprensioni ci tengano distanti e ci facciano trattare con sospetto. Il rischio da cui nessuno di noi è esente è che le diversità di vedute e di pensiero ci spingano ad allontanarci. Il rischio da cui nessuno di noi è esente è che le ferite degli altri siano il pretesto per alimentare pregiudizi piuttosto che il terreno per accoglierci nella nostra umanità. Le zavorre appannano il senso della missione e rischiano di mettere al centro l'ego piuttosto che il Vangelo, ha sottolineato ancora il Vescovo. Ma la fragilità è ondata, un fatto. Lo era per i dodici, lo era per ciascuno oggi. Gesù indica ai suoi discepoli l'unica semplice strada da seguire, quella dell'amore. È da come vi accoglierete, è da come vi accetterete per quello che siete, è dalla capacità che avrete di avere occhi l'uno per l'altro, di aspettarvi nei momenti di incertezza, di rispettarvi nei tempi e dal coraggio di vincere gli steccati dei reciproci pregiudizi, di sentirvi tutti responsabili, nello stesso modo dell'unico percorso. È da tutto questo che capiranno che siete i miei discepoli, perché vedranno riproporsi tra voi esattamente quello che io ho fatto per voi. Questi 50 anni con che spirito li ha vissuti? Diciamo con che spirito vivo il presente. Io ho pensato a tre parole che sono riconoscenza, responsabilità e restituzione. La riconoscenza dovrebbe essere immensa, perché è un grande dono essere prete ed è un dono che forse adesso comincio a capire un po' di più, un po' più a fondo, più dettagliatamente, nello slancio della giovinezza, si risponde bello, meraviglioso, ma adesso mi sembra smisurato. Poi riconoscenza quindi alle persone, ecco sono, la vita è costellata, la mia ma quella di tutti, di tante persone, di tanti doni e non sarei qui se non accompagnato da molti di questi che adesso sono già viati loro in paradiso. La responsabilità è tanta, io adesso in questi giorni mi sento soprattutto, non posso dire il peso, ma diciamo un po' la sensibile, ecco a dire 50 anni, chissà quante ne ho combinate, quanto poco ho risposto ai doni di Dio, dovrei essere una festa, una gioia, una cosa, e invece mi sento davvero di dover riflettere molto, a fare molti esami di coscienza per le occasioni mancate. Credo che in momenti come questo le persone che ci vogliono bene oggi e che pregano per noi, io stamattina ero già in macchina, mi ha telefonato una persona che viene messa in cattedrale e mi ha detto, guardi ho visto dai manifesti, ho ascoltato, la ringrazio di tutto quello che fa ancora e mi raccomando una preghiera alla Madonna di Montalegro. Sono tante queste persone che sono anziane, che forse da parte nostra non sono granché valorizzate, anzi forse a volte sono un pochino marginate, però sono tante queste persone che ci vogliono bene. E per chi ha festeggiato i 50 anni, i 65 anni di sacerdotio, c'è chi sta per diventare presbitero e appunto dicevamo nella solennità di Pentecoste la diocese di Chiaveri festeggia l'ordinazione di Don Francesco Basso, domani domenica alle 15.30 la celebrazione sarà presieduta dal Vescovo nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, avremo modo anche di seguire in diretta su Telepace 1 questo momento dell'ordinazione di Don Francesco. Noi ci arriviamo verso la conclusione di questa nostra rassegna stampa, andiamo a dare uno sguardo alle pagine dello sport, in edicola che stamattina sul secolo XIX si parla sia di Entella che di sessi rilevante, per quanto riguarda i bianco celesti, bomber, casarotto è già caldo, ho un debito con l'Entella, l'attaccante acquistato in inverno ma mai sceso in campo per un infortunio, mi hanno scelto, mi hanno aspettato e aiutato, non vedo l'ora di poterli ripagare. Il sesso invece alle prese con il Rebus Sivori, il mercato dei corsari legato allo stadio, i dupi sull'effettiva capacità dell'impianto complicano gli affari impostati dallo staff Rosso Blu, Boesfer dice no, con Rolandi seguirà Barilari, via anche Anacoura, Sandri, Troiano, Andreis è forte, quindi momento di mercato per quanto riguarda la società Rosso Blu. E siamo alla pagina degli appuntamenti, ne andiamo a vedere subito uno che si sta svolgendo, si svolgerà qui nella giornata di oggi sulla Piana dell'Entella, all'Orto della Carità del Mato Grosso, la festa di primavera per raccogliere fondi per le missioni in Perù. Vediamo. Quali saranno le attività proposte? Le attività saranno vari stand caratterizzati da giochi molto semplici che vengono organizzati da varie realtà di volontariato qua della zona, che possono essere associazioni come parrocchie, è davvero un'iniziativa in cui si invitano tutte le realtà a partecipare per farsi conoscere, per far qualcosa insieme e soprattutto per invitare tanta gente, famiglie, ragazzi, bambini che hanno voglia di passare una giornata giocando all'aperto in un posto bello, verde e che ci ospiterà per tutto il giorno. Cosa scoprono dell'Orto della Carità? Quello che si scopre è proprio quello di un posto che possa essere aperto a tutti e che vuole lasciare il messaggio che tutti possono dare una mano se hanno il desiderio di prendersi a cuore qualcun altro. L'Orto della Carità è una realtà che è legata all'operazione Mato Grosso e che nasce con il desiderio di coinvolgere in particolare i ragazzi nell'aiutare le persone povere dell'America Latina in cui abbiamo tante missioni. Per cui in questa giornata verranno chieste delle offerte sia per partecipare ai giochi ma anche per comprare da mangiare e tutte le offerte raccolte vengono mandate in sostegno delle missioni. Tutto il giorno si può stare insieme? La giornata inizia alle 10 e termina alle 18 e durante la giornata ci sono i giochi e soprattutto ci saranno anche degli spettacoli. Buon lavoro a tutti, che sia una bella festa per tutti e qualsiasi cosa chiedete a chi vedete qui, a uno di questi ragazzi sia sempre a disposizione. Buona giornata, buona festa e primavera! E diamo lo sguardo nella nostra agenda agli altri appuntamenti in programma per la giornata di oggi. Appuntamenti in agenda per sabato 18 maggio. Dalle 9.30 alle 19 torna nelle vie del centro storico chiavarese la ventunesima edizione di Chiavari in fiore, la mostra mercato di fiori e piante ornamentali organizzata dal CIV di Chiavari. Ci vediamo in centro a Chiavari con il patrocinio dell'assessorato al turismo e al commercio. L'Associazione Nazionale Città dell'Olio e il Comune di Pieve Ligure con la collaborazione dell'Associazione Amici dell'Oliveto organizzano la quarta edizione della merenda nell'Oliveta 2024, nell'Oliveto didattico sotto la chiesa, ingresso libero dalle 9.30 senza prenotazione e per tutte le età. Dalle 10 alle 12 l'Associazione Culturale Le Arcate al Monumento ai Caduti del Mare, sulla passeggiata di Recco, propone l'iniziativa Orchidee in Cammino, immagini e racconti di orchidee spontanee sul lungomare di Recco. Parte da Genova la proposta per una riforma delle locazioni commerciali da tempo in attesa di un aggiornamento normativo. Alle ore 10 allo Star Hotel President saranno messe sul tavolo tutte le nuove necessità del mercato degli affitti legati agli immobili commerciali. A Sestri Levante alle ore 10.30 si terrà l'inaugurazione di due nuovi spazi di lettura all'aperto presso la biblioteca di Palazzo Fasce Rossi, alla presenza del Sindaco, dell'Assessore alla Cultura e dell'Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi. La Croce Verde Chiavarese inaugura l'arrivo di nuovi mezzi di trasporto. L'appuntamento è alle ore 14 in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Alle 15 apertura straordinaria dell'archivio di Stato di Imperia e visita guidata gratuita all'esposizione. Imperia è un ponte tra passato, presente e futuro. Al vivaio il Geranio di Rapallo un pomeriggio insieme per scoprire le mille espressioni della Rosa con l'evento Rose che Passione. L'appuntamento è dalle ore 15 alle 19 in via Fratelli Betti, numero 100. Il Circolo Acli di Valletti e il Museo Contadino di Cassego presentano alle ore 15 uno sguardo alla storia locale con due ricerche, spiritualità e lavoro e officio nella sala comunità di Valletti. Ritornano le giornate europee dei mulini, un'occasione per poter parlare di salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica nell'ottica di un turismo educativo. Le visite al mulino Rapria di Belpiano avranno luogo dalle 15 alle 18. Accettare il compimento, consapevoli della morte, vivi fino alla fine. Dalle ore 15.30 alle 18.30 appuntamento al centro civico Buranello in via Giacomo Buranello I a Genova, San Pierdarena. L'incontro è volto a sensibilizzare la cittadinanza e l'ingresso è libero. L'associazione culturale Oleudo ha organizzato un incontro dal titolo Progetto Sicurezza, contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, alle 16.30 nella sede dell'associazione Terza Età in via 20 settembre 33 a Sestri Levante. Alle 17 per la rassegna concerti di primavera, in collaborazione con il Museo Civico Etnografico Podenzana della Spezia, si svolgerà un concerto di chitarra classica. L'evento, organizzato da Società di Concerti, porterà sul palco Samuele Fontana, che eseguirà un repertorio di brani celebri e suggestivi. A Savona, nell'ambito delle celebrazioni per il 180esimo anniversario della Fondazione della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve, alle ore 17 nella Cappella della Casa Madre, in via Santa Maria Maggiore, il coro Tre Ponti eseguirà un concerto preghiera. Con la nostra agenda si chiude questa edizione della rassegna stampa, l'informazione torna alle 12.45 con la prima edizione del Tg Telepace. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com e sul canale Telepace 3. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e buona domenica. Grazie per essere stati con noi, buona domenica.